Ecco, ci mettiamo un po' di ricotta di sopra. Cazzata siciliana stasera ragazzi! Ecco, adesso cominciamo a sistemarla. Da tutte le parti, abbiamo messo le gocce di cioccolato, credo che un'altra goccia non ce la mettiamo, questa è ricotta di peggio, non ci mettiamo. Bene, ecco fatto. Ora spettiamo tutta bella parapara. E voilà! Poi ci mettiamo, ci metteremo poi un po' di pan di spagna, la gireremo e bevremo la cazzata siciliana. Ci vediamo dopo, dai! Cazzata siciliana stasera ragazzi! Ecco, adesso cominciamo a sistemarla. Cazzata siciliana stasera ragazzi! Ecco, adesso cominciamo a sistemarla. La nostra cazzata siciliana è in fase di preparazione. Ci vediamo per il proseguimento. Uri! Chef, chef, si gira anche di qua per favore. Prego, prego! La nostra cazzata siciliana è in fase di preparazione. Ci vediamo per il proseguimento. Uri! Chef, chef, si gira anche di qua per favore. Prego, prego, prego! Signori, la nostra cazzata siciliana è in fase di preparazione. Ci vediamo per il proseguimento. Uri! Chef, chef, si gira anche di qua per favore. Prego, prego! Signori, la nostra cazzata siciliana è in fase di preparazione. Ci vediamo per il proseguimento. Uri! Chef, chef, si gira anche di qua per favore. Prego, prego! signori e signori stasera cazzata siciliana guardate qua cosa ci abbiamo eh guarda qua ci abbiniamo la malvazia adatta per i dolci questa è adatta per i dolci ragazzi adesso ci rubiamo il lambadario no 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 allora allora la bruttezza tira via attenzione guardate guardate che bellezza ha detto attenzione bella 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 mo facciamo la prova della cazzo com'è com'è e com'è sicuramente buone non si può togliere dalla bocca ragazzi è davvero buone guardate qua cazzata siciliana alla salute alla scienze buona finisce squadra a mucca buona serata ragazzi buona serata ragazzi ciao